Libere professioniste casalinghe, commercianti, ma soprattutto mamme, mamme di figli che in città vogliono rimanere per costruire il loro futuro. Sono le componenti del Movimento Rosa per la rinascita di Gela, presentato ufficialmente ieri sera. Assieme alle istituzioni, hanno detto le responsabili, vogliamo contribuire attivamente alla ripresa occupazionale. La nostra cosa è di dire salute e lavoro. E come si può ottenere salute e lavoro? Lottando, perché verso le istituzioni o magari facendo un po' di pressione alle nostre politici o anche costruirci noi stessi il lavoro che ci offre la nostra città. Il Movimento Rosa per la rinascita di Gela era già steso in piazza lo scorso 26 gennaio nell'ambito della mobilitazione per il lavoro. Noi vediamo che le istituzioni si stanno muovendo e noi stiamo mettendo su questo movimento, visto che siamo donne, stiamo formando una rete per essere vicino a questa istituzione, dato che la salute e il lavoro camminano di pari passo. Il vostro obiettivo principale è quello di non far emigrare da Gela i vostri figli? Sì, principalmente i nostri giovani, perché noi amiamo tanto la nostra Gela, la nostra città e i nostri comprensori. Le donne sono quelle che danno la vita e noi attraverso la vita vorremmo far rinascere Gela con i nostri ragazzi, con le persone che si stanno associando, perché parlando con le donne, le donne si stanno avvicinando a noi. Ma non solo casalinghe, ma anche commercianti, abbiamo degli avvocati assieme a noi, delle consulenti, insomma, abbastanza persone, libere professioniste, che si stanno associando a questo modo di fare nostro. È molto semplice, ci stiamo provando, perché giustamente non abbiamo esperienza, però cerchiamo di farcela l'esperienza, cercando di bussare, di farci spazio con i gomiti. Grazie.